Notevolmente è riuscita la prima rappresentazione della Passione di Sordevole 2022, uno spettacolo suggestivo che ha superato le aspettative dei numerosi presenti, cittadini e autorità. Prima dello spettacolo vero e proprio la sfilata dei più di 300 figuranti per le vie del paese, poi un'emozione profonda ha colpito tutti per più di due ore. Infernalmente è riuscita, per fare una mano sicuramente col tuo morte, e il mio volere coltivo sia conformante a ciò che sa che ce l'è stetua. Volete il re lasciare il Deo? O parato, il quale ha tanto fede, vogliamo che parato a liberazione, Gesù, congannato morto e rialzo! 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 Grazie. Grazie. Grazie.